Cittadini di San Rufo preoccupati per l'ondata di furti in abitazione che ormai da diversi giorni sta interessando il piccolo centro valdianese. L'ultimo della serie si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì quando i soliti ignoti si sono introdotti in un'abitazione addormentando i proprietari e i figli degli stessi. Per poi agire indisturbati, i ladri hanno portato via oggetti di valore, soldi e l'auto di famiglia. A manifestare la propria angoscia per i ripetuti episodi e una cittadina attraverso il profilo Facebook quasi ogni notte si verifica un furto, scrive non si dorme più, abbiamo sempre più paura ed è arrivata l'ora di prendere dei provvedimenti. Motivo per il quale la San Rufese ha rivolto un appello ai propri compaesani affinché si avvii una raccolta firme per chiedere al comune di effettuare maggiori controlli, dando magari vita a delle ronde notturne per prevenire ed evitare i furti. Intanto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Polla per risalire ai responsabili.